Allora ragazzi, in questa lezione, diciamo in questa parte del corso, vorrei prima di passare alle varie tecniche vibrato e glissato, eccetera, volevo parlare del sound, quindi cos'è che mi ha fatto innamorare appunto di questo basso, e volevo rispondere anche alle tantissime, tantissime, tantissime domande che ho ricevuto nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi tempi, riguardo al mio suono, questo è come ho scritto nel libro, a me mi riempie di orgoglio, mi riempie di gioia, però l'accostamento con il sound di giaco è un parolone, mi mette anche un attimo in difficoltà quando devo rispondere alle varie domande, Ma come fai a avere il suono di giaco? Cosa usi? Che effetti? Che setup fai? Allora, qui io ne ho già parlato, però approfitto di questo corso, perché stiamo parlando di fretless, mi sembra doveroso chiarire questo punto. Allora, innanzitutto non ho il suono di giaco, perché io sostengo, sono un sostenitore accanito, che nessuno al mondo avrà mai il suo suono, ma come nessuno al mondo avrà mai il mio, o avrà mai il vostro, cioè ognuno, questa cosa è proprio, secondo me, la Bibbia. Se io vado a un concerto di Pino Palladino, perché sono un fan di Pino Palladino, mi chiama e mi dice, vieni sul palco e suona un brano al posto mio, col stesso basso, quindi attaccato agli stessi amplificatori, tutto. Quando lo suono io, quel basso lì non uscirà mai, da quel basso lì, non uscirà mai il suono di Pino Palladino. Ok, come se mi chiamasse giaco, magari mi avesse chiamato giaco, non è che con il suo fretless, vabbè, è uno spettacolo, era uno spettacolo. Magicamente lo vado a suonare io e mi esce il suo suono. Questa è proprio una questione, fortunatamente, perché sennò saremmo tutti uguali. È una questione fisica, cioè il modo in cui io premo la corda, il modo in cui la pizzico, dove la pizzico, con che intensità, con che dinamica, con che colori proprio, diciamo, sono troppi i fattori che incidono sul suono. Quindi al limite si può dire che io ho ascoltato giaco in primis, ma anche appunto Pino Palladino, ho ascoltato tanto Gary Willis, ho ascoltato tanto anche bassisti di casa nostra, Rael Kanzian, anche perché suonano la Tribute de Poo, ho ascoltato Massimo Moriconi, sono tutti bassisti che suonano anche fretless. E per forza di cose sono maggiormente condizionato dal loro e dal loro suono, perché se io avessi ascoltato nella mia vita solo Beethoven e suonassi il pianoforte, avrei un po' la tendenza a suonare in quel modo lì, in modo classico, diciamo. Quindi è logico che ognuno prende spunto e di conseguenza tenderà ad avere un sound simile ai propri, diciamo, eroi, come vogliamo chiamarli, ai propri artisti preferiti. Ma da qui a dire avere un suono uguale a Tizio, un suono uguale a Kaio, c'è una differenza abissale, secondo me è del tutto sbagliato anche solo pensarlo. E quindi non cercate mai di copiare un suono, dovete avere una vostra identità. Se poi la mia identità agli occhi esterni, diciamo, che ricorda un po' il sound di Jaco, almeno fa altro che piacere, però non è una cosa voluta. Non è che mi sono messo lì a guardare come settava lui i suoi ampli, anche perché non ho gli acoustic che aveva lui. Non sto a guardare dai video, a cercare di capire a quanto teneva l'altezza, che il pick-up aveva. No, questo è del tutto inutile. Io lo ascolto e, casomai, cerco di capire come mai aveva un bel vibrato, come mai aveva degli armonici clamorosi. Questo è lo studio di un personaggio, lo studio di un artista, e non voler fare la copia di un artista, tanto saremo sempre brutte copie. Anche suonando in una Tribut Man, come nel mio caso De Poo, non farei mai la copia di Red Canziano, perché c'è lui, ce n'è uno. Quindi io sono Igor Sardi, ha detto così, mi sembra di essere all'alcolista anonimo, però io sono Igor Sardi, e quindi quando vado sul palco non sono Red Canziano, piuttosto che Marcus Mill, eccetera, eccetera. Sono io, quindi sicuramente dovrò cercare comunque un sound inerente a quello che sto facendo, in quel caso De Poo. Quindi lo ascolterò, ascolterò il suo modo di suonare il fretless, e cercherò di adattarmi un po' alla situazione, ma non farò mai, non le andrò mai a chiedere, Red mi dici come seti i tuoi bassi, oppure come, che amplificatori usi, cioè non ha senso, ecco, diciamo così. Detto questo, fatto questa premessa, dico sempre promessa, poi mi correggono premessa, io vi dico che innanzitutto mi sono innamorato di questo tipo di bass, perché come già detto e ridetto, le sfumature sonore, con questi vibrati, glissati, non riesco ad averli col bass con i tasti, quindi è come se riuscissi a parlare più lingue, quindi avessi un bagaglio culturale molto più ampio, soprattutto nei soli, o comunque anche nell'accompagnamento, sono molto più melodico, con il bass fretless, cosa che mi riesce meno col bass con i tasti. Poi, altra cosa, il feeling, a me i tasti, diciamo che danno proprio noia, nel senso del rumore dei tasti, quello sferragliamento, che si sente, che si può un po' coprire, un po' mascherare, ma c'è sempre, non è che mi faccia impazzire, qui i tasti non ci sono, e godo, quindi quando suono, questo è un altro fattore. Poi volevo dirvi, che appunto volevo rispondere alle tante domande, che mi sono state fatte, su cosa utilizzo, cosa non utilizzo, anche se l'ho già detto, lo ripeto, comunque io, come tutti, come tutti giustamente direi, ho sperimentato tanto, da quando ho iniziato a suonare, il basso, ho sperimentato corde, ho sperimentato piccato, ho sperimentato bassi, non molti, però qualche basso, l'ho sperimentato, ho sperimentato diversi tipi di tastiere, nascere, un palissaggio, tante cose, effetti, non molti, però l'ho sperimentato, sono arrivato poi, amplificatori, ho avuto Ashdown, ho avuto Mark Bass, per l'amor di Dio, ho avuto ATC Electronic, ne ho avuti diversi, e è giusto così, è giusto sperimentare, è bello sperimentare, poi sono arrivato a un'età, in cui ho detto, allora, bassi, me ne bastano, due barra tre, in precision, un jazz con i tasti, e un fretless, il jazz, perché a me piace, più di tutti, effetti, ripeto, non è che ne ho provati tantissimi, ma cosa mi serve, un reverbero, e un chorus, io utilizzo, un reverbero, dell'ATC Electronic, tanto trovate tutto scritto, e un chorus, della, ricordo nemmeno la marca, Acai, questi sono i due effetti che utilizzo, non uso, equalizzatori, non uso al limite, o nell'AID, chiedo al fonico, se c'è bisogno, un po' più di, una punta di medi, eccetera eccetera, non uso compressori, a meno che non mi venga richiesto, non uso più amplificatori, a meno che il palco, non sia veramente grosso, e serva un po' di, di spinta sonora, ma, nei palchi, un po' più piccoli, nelle situazioni ridotte, porto il mio preamp, quindi stacco, la testata dall'ampli, me la porto, me la uso, come preamp, quindi al limite da lì, regolo un pochino, c'è già un equalizzatore, parametrico, e, già da lì magari, regolo un pochino, stop, io non utilizzo altro, per quanto riguarda invece, il setup dello strumento, qui vi rimando poi, al mio, al libro che ho fatto, proprio sul setup, sulle modifiche, sull'assemblaggi, dei vari componenti, del bus, eccetera, trovate tanto tutto sul mio sito, ne ho parlato molto lì, e io tutti i bassi che uso, li setto, a orecchio, nel senso, che io prima ero di quelli che guardavo, allora la fender dice che, l'altezza delle corde, deve essere in questo range, la fender mi dice, che i pick up, devono essere a questa altezza, inclinati in questo modo, il thrust rod, in quest'altro modo, eccetera, allora, innanzitutto, già con il basso, con i tasti, io me ne frego un po', delle regole, e vado con questo, con l'orecchio, quindi, il thrust rod, io lo regolo, essenzialmente, con il basso attaccato, e quando trovo il suono, che mi piace, perché sapete, più allento, più lo stringo, cambia la curvatura, cambia anche il suono, ovviamente, quindi, quando trovo, andando sempre molto, pacato, diciamo, un quarto di giro, alla volta, quando sono soddisfatto, del, del sound, del feeling, col basso, per me è a posto, per me va bene così, può esserci un rilascio, anche di mezzo metro, però, non sto a guardare, capendo, poi, ovviamente, sul fretless, il setup, cambia, quindi, non avendo le barrette, anche le distanze, misurare le distanze, diventa un po', diciamo, superfluo, e, è difficile, quindi, ehm, il tracerodo regola, in questo modo, ehm, l'intonazione, la regola, più o meno, so che, ehm, il mio soul, a parte mi, mi aiuto con gli armonici, quindi, regolo l'intonazione con gli armonici, ehm, altrimenti, so che, il mio soul, esce intonato, in un determinato punto, se vedo che, dopo un po', a quel punto lì, mi esce, calante, regolo un po', le sellette, e basta, ehm, i cambi di stagione, ehm, non aiutano, vero, quando, d'estate, ad esempio, i bassi, soprattutto, se si suona molto fuori, prendono l'umido, tendono ad inclinarsi, in un certo modo, quindi, va regolato un po' più spesso, il tracerodo, perché, vi accorgerete, che le corde, sono più vicine, alla tastiera, oppure, d'inverno, contrario, magari, si, le corde, si, si allontanano, quindi, lì, basta una chiavettina, e si regola, eh, il suono, allora, eh, ultima cosa, le corde, io utilizzo, da una vita, ormai, le roto sound, perché, non costano, un enormi, diciamo, troppo, perché ora, con, una ventina, poco più di euro, si prende una muta, ma, dovete trovare le vostre, primo, perché, sui fretless, le corde ruvide, io uso corde ruvide, rovinano, il legno, della tastiera, quindi, questo, questo manico, del 2019, già, ci sono i sendi, e lo suono poco, suono, molto poco, rispetto a prima, il, eh, manico di prima, dove ci studiavo, ore, 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 tutti i giorni, c'era delle fosse, che, eh, a ripararlo, ci voleva più di, insomma, non valeva la pena, diciamo così, che era un manico, eh, messicano, dissi, vabbè, lo compro nuovo, faccio prima, però, quindi, dovete anche valutare, questa cosa qui, questi strumenti, come tutti gli strumenti, senza tasti, quindi gli archi, sono, nati, per essere, sono nati, detta così un po', per essere equipaggiati, con corde lisce, essenzialmente, proprio per, un discorso di, vedete, i segni, che lasciano, queste maledette corde, le corde lisce, no, non, non fanno questo effetto, quindi, basatevi anche, su quello, e poi, io mi trovo bene, con queste corde, tant'è che, le monto, su tutti i miei bassi, perché c'ho un feeling, particolare, proprio con la corda, con la durezza, della corda, eccetera, quindi, 105, 45, ruvide, quindi, corde, l'ho detto, ricordatevi anche, che, se avete, un, una tastiera in palissandro, è un po' più resistente, se avete, una tastiera, fretless, in acero, e ci montate le corde ruvide, è una tragedia, detto questo, i pick up, sono, Castoshop 60, il ponte, sono i ponti, quelli vintage, Fender, e basta, il suono, questa è una cosa, che vale, per i fretless, ma, per tutti i bassi, prima di, consiglio che vi do, prima di acquistare, effetti, amplificatori, cercate di conoscere, a fondo, tutte le possibilità sonore, che vi dà il vostro bass, per esempio, un Fender Jets, già, di per sé, ha molti timbri, cioè, diciamo, il timbro, in linea di massima, è caratteristico suo, del Fender Jets, però, già, sentite, agendo solo sul tono, quanto cambia, un suono, agendo solo sulla manopola, del tono, così è chiuso, lo apro, per me ha già un suono totalmente diverso. Ora sentite, se sposto la mano da qui, facendo due note, da un suono molto nasale, da un suono gonfio, rotondo, oppure, chiudo il pickup, a ponte, apro quello, al manico, dopo il tono, gli apro tutte e due i pickup, e chiudo il tono, apro il tono, questo non è sicuramente il mio suono preferito, però, avete capito, già, a seconda di dove sto, di dove metto la mano destra, cambia tutto, e poi anche quanto, quanta pressione faccio proprio su, con la mano destra, quindi la dinamica, se io suono, così, il punto in cui suono la nota, cioè il mi preso qui, è un altro timbro da mi preso qui, tutte queste considerazioni, fatele, prima di, magari, spendere soldi, su effetti, appunto, cose varie, perché già lo strumento, e le nostre mani, ci danno tantissime, possibilità sonore, quindi anche poi, il modo in cui, premiamo le corde, appunto, eccetera, eccetera, quindi questo per quanto riguarda il sound, mi sono dilungato un po', però ci tenevo molto a fare questa, questa lezione, e nel prossimo video parleremo del vibrato, e tutte le sue sfaccettature, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Grazie. 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 Grazie.